Eccoci col presidente Luigi Muro, presidente prima vittoria casalinga per i nostri ragazzi seppure con le solite diciamo piccole polemiche arbitrali. Lei come l'ha vista? Innanzitutto è felice la vittoria ovviamente. Sì, oggi metto al primo posto la vittoria perché è chiaro che dopo una settimana di sofferenze la vittoria era il risultato troppo necessario e quindi sono contento perché poi è stata ottenuta col cuore ancora una volta un'espluzione incomprensibile di Micalo che ha fatto un fallo, ammesso che sia fallo aereo a centro campo al limite di un'ammunizione è stato direttamente espulso. Vabbè lasciamo stare, questo rientra negli errori della categoria. Detto questo dico oggi la squadra ha dimostrato un grande cuore, un attaccamento e queste cose vanno bene poi piano piano migliorerà anche il resto. Bella vittoria condita anche da tanti giovani in campo. Ormai il mark di fabbrica anche di questo Proce a far crescere i tanti giovani. A proposito poi dei Procidani, vittoria firmata dai fratelli Costaiola. Sì, noi abbiamo puntato sul trio di attacco Lorenzo, Tonio e Giocibelli. Quindi ci aspettiamo ancora più gol. Per quanto riguarda i giovani Procidani sono contento. A un certo punto mi pare che c'erano 7 under. Questa è la dimostrazione che noi puntiamo sui giovani. Hanno dato anche un bel apporto per poter raggiungere il risultato finale.